Stagione delicatissima, perché dobbiamo per forza di cose vincere il campionato. Una terza stagione in terra indiana sarebbe un pochino troppo, un po' troppo stucchevole dal mio punto di vista, perché un campionato di troppo basso livello per subirlo per tre stagioni, cioè sarebbe veramente devastante per me giocarlo e per voi vederlo. Dobbiamo fare un mercato di livello, perché la squadra non è di livello attualmente, e preparatevi ad una rivoluzione. Perché i giocatori che manderemo via sono tanti, i giocatori che non abbiamo rinnovato la scorsa stagione sono tanti, iniziamo a disquisire su quella che è per l'appunto la situazione. Le regole per questa stagione sono uguali a quelle della scorsa, e perché nuovo sì, si tratta per la maggior parte di regole reali del campionato indiano. La rosa dovrà essere composta da massimo 35 giocatori, all'interno della rosa si possono avere massimo 6 giocatori non asiatici, in campo durante le partite si possono schiarare massimo 4 giocatori non asiatici contemporaneamente, All'interno della rosa si devono avere in minimo 4 giocatori provenienti dalla primavera, tra i giocatori convocati all'interno della lista e il giorno della partita dovranno comparire almeno 2 giocatori provenienti dalla primavera. Potremmo avere massimo un osservatore, massimo 2 stelle sia esperienza che giudizio. Ogni stagione si potranno acquistare massimo 2 giocatori svincolati, e ogni stagione si potranno acquistare massimo 2 giocatori in precontratto. A worse è la scorsa stagione che si aprono con il gol di Krishna contro Jamshetpur sotto l'incrocio dei pali dopo una finta. Il mio racquisto che invece viene vinto da Puglia ed è MVP, ovviamente, dal re delle isole Fiji, Roy Krishna. La rosa del 2024-2025 di questa nuova stagione è una rosa che secondo me per l'appunto ha bisogno di essere totalmente rifatta da capo. Ragazzi vi dovete preparare. Singh confermato, è uno dei pochi che si è salvato la scorsa stagione e quindi lo confermo. Marinovic ha chiesto di essere ceduto e se ne andrà. Kumar sul mercato. Thomas e Hasan, secondo e terzo portiere. Questi sono i portieri per questa stagione, ragazzi. Singh come primo, Hasan come secondo e Thomas come terzo. Vai. Tersini sinistri, ci serve un tersino sinistro di dolare. Jerry rimarrà a fare la riserva. Difesa centrale. Fall sul mercato. Panwar rimane a fare la riserva. Ali confermato. Morianten ha chiesto di essere ceduto e quindi se ne andrà. Sulla destra, via Rantley. Non lo voglio più vedere. Singh gli voglio dare fiducia come giocatore di riserva. Ci serve un tersino destro di dolare. Centrocampo. Puitea out. Chudri in prestito. A Puglia rimane. Jau rimane a fare la quarta o la terza. Adesso vedremo. Ci serve un centrocampista di dolare e potremmo optare anche per un'altra riserva. Ali sinistre siamo belli pieni. Abbiamo Singh, Tatal e Jadav. Jadav, via. Goddard sulla destra. Se ne andrà il Verl, perché l'ho ceduto mentre semulavo le ultime due stagioni. L'ho ceduto, se non sbaglio, per 350.000, una cosa del genere. E Jerry anche se ne andrà via. Perché? Perché non mi sono piaciuti nessuno di questi. Sti tre, via. Paul confermato, Singh confermato, Tatal confermato. In attacco si vola. Singh sul mercato perché non è cresciuto in prestito, di più tre è cresciuto. E Narayana e Krishna rimangono. Ricapitolando, ci servono i seguenti ruoli. Un terzino sinistro di dolare. Due DC assolutamente. Come CC ci serve uno barra due CC, è ok. E ci serve uno alla destra. Questo è il nostro mercato. Sfoltire e sfoltire. Dobbiamo creare tanto spazio e dobbiamo far arrivare tanti giocatori che siano funzionali alla causa. Ho già inviato l'osservatore della primavera, per nove mesi in India. E confermo come modulo il 5-2-3. Perché ho paura di cambiare, ragazzi miei. Ho paura di cambiare. È un campionato dove, secondo me, appena lasci spazio te segnano. Ma non perché è un campionato di livello. Ma proprio perché abbiamo, comunque, siamo a un livello troppo troppo basso. Siamo a un livello troppo troppo basso e quindi confermo il 5-2-3. Ma attualmente diamo ancora quest'identità di gioco. Ha funzionato nella seconda parte di stagione. E proviamo a dargli continuità. Ho paura, se no, di andare a cambiare, a ritrovarci nella stessa situazione lo scorso anno. Dove partiamo male e poi dobbiamo recuperare, recuperare, recuperare. E non si recupera. Ciò detto. Ciò detto. Dimentico qualcosa. Obiettivi. Vediamo un po' gli obiettivi che ci pone la società. Cresci da giovani. Abbiamo completato il primo obiettivo, quello dei tre giocatori con meno di 20 anni. E ok. Dobbiamo far giocare questa stagione almeno il 50% di partita stagione ad un giocatore acquistato la prima stagione dal vivaio. Final Brand ottiene 5 vittorie fuori casa questa stagione. Il primo obiettivo qui non l'abbiamo rispettato, ma era a breve termine. Non capisco perché non si sia aggiornato dalla scorsa stagione. Guadagna 5 minore alla cessione dei giovani entro 3 stagioni. Abbiamo ancora 2 stagioni da fare, quindi ottimo. Successo in patria. Vinci il campionato. Si parte ufficialmente con la seconda stagione in terra indiana. Ora o mai più? Io direi che a questo punto vediamo il budget e si parte con il mercato. Abbiamo un budget di, ragazzi, 1 milione e 500 mila. Facciamo gli attendisti in questa prima parte. Aspettiamo che ci arrivino un po' di offerte e poi si parte ufficialmente. Ok, offerte ai ripresti di Moriantem subito e immediatamente. Io Moriantem lo vorrei cedere, non lo vorrei mandare in prestito. Kumar, i Kerala Blasters. Ok, 120 mila, tratta. 130. State col braccetto così, state. Beh, 120 mila accetta perché già stanno a metà dalla tensione. Altro offerto del trasferimento, stavolta per Puitea, che è un gioco che vogliamo cedere. 260 mila parte del Doncaster, tratta anche in questo caso, 300 mila. Olè, bravi, bravi quelli del Doncaster. Allora, c'è tra i 300 mila per Puitea. È un grande giocatore Puitea, è un grande giocatore, evitatevi di me. Kumar, se ne va. Per 120 mila al Kerala Blasters e lo stallo San Ushi vuole il bon fall. Bene, quindi trattiamo quanto possiamo chiedere, massimo 330. Allora ci hanno offerto 310, tratta. Giocatore che non ha fatto malaccio la scorsa stagione, ma chi è troppo avanti con l'età. Calerebbe veramente troppo, 330, 330. E Singh, a Paova Singh lo vuole il Northeast United. Tratta anche qui, proviamo a prendere il più possibile. Bene, 160 mila al Northeast. Adesso vi faccio vedere quella che è l'abbè mercato. Perché mi sono ricordato adesso che c'è un giocatore svincolato e mi interessa. Sarebbe Noah Sadawi. Gioca nel campionato indiano ed essendo svincolato lui me lo vorrei prendere. Così da metterlo sulla destra e sognare in grande. Non sarebbe male prendere il buon Noah Sadawi, eh. Ex Machabi Haifa tra l'altro lui, il buon Noah Sadawi. Ha delle stats intriganti. 87 di velocità scatto, 83 di agilità. Dribbing che poi dal punto di vista tecnico è un po' povero in realtà. Però quel 63 di finalizzazione è tanta roba. Rapido. Cioè quel giocatore secondo me che con la stats soprattutto dell'agilità in un campionato come quello indiano dove sono tutti ciocchi di legno, letteralmente di tronchi. Va che è una meraviglia. Cioè questo è praticamente come un grissino nel burro, ragazzi miei. E andiamo dunque a prendere Noah Sadawi. Ovviamente cruciale. Facciamo tre anni. Ci dice lui. Allora, 3.000, 31.000, 115.000. Ok, trattiamo. Si potrebbe fare 3.200 e 25.000 bonus d'ingaggio. Sarebbe il giocatore più pagato all'interno della rosa. Non di tanto, tra l'altro. 3.200 e 25.000. Vediamo che ci dice. Sicuramente chiederà qualcuno. Invece no. Noah Sadawi accetta 3.200 a settimana. Umilissimo il marocchino. Non arriva in terra indiana. Ci ritorna in terra indiana. Lui ex Goa, se non sbaglio. Giocatore interessante che tornerà utilissimo per noi. Eccoci qua con il bug classico di quando acquisti i giocatori svincolati. Real Madrid. E poi svincolati. Olè. Quest'anno tutti e due. L'anno scorso era solo una dei due. Quest'anno tutti e due. Ma che facciamo? Risolviamo il bug. Ma forse potremmo fare una combo. Hanno fatto la combo. Jadav. Il Nots County. E qui si può fare un bel gruzzoletto. E 370.000. Vai. Vai Aniket. Va a fare questa esperienza a Nots County. In Inghilterra. Accetta il rappresentante. Quindi Aniket Jadav. Speriamo che accetti l'offerta della League 2. Se ne va Puitea. Ottimo. Puitea ufficialmente ceduto. E credo che abbiamo ceduto. Anzi anche Fall. L'ho detto. L'ho detto. Ho lo scritto. Ho previsto il futuro. Se ne va Murtada Fall. Se ne va in Svizzera il buon Murtada. Quindi. Stiamo cedendo praticamente tutti i giorni che dovevamo cedere. Ci mancano adesso Rantley. E poc'altro se non sbaglio. Apaoba. Che però dovrebbe andare al North East. Chuluri che dovrebbe andare all'Iderabad. Allo Jam Shetpur in prestito. Eccolo qua Rantley. L'Ariad. 340.000 350.000 Famo. Vai. Accettate. Accettate. 350.000 10.000 In più. Bravissimo rappresentante Laryad. Così si lavora. Allora. Per il CC. Mi piaceva tanto questo Chou Team. Del Taipei cinese. Ma. Sarebbe stato perfetto per noi. Purtroppo però non lo cedono. Anche perché credo che sarebbe costato troppo. Vang Yam anche non sarebbe stato male per The Stats. Ma. Non lo cedono. Però i due giochi che a me interessano di più sono. Jackson Singh. Del Kerala Blasters. Con noi che abbiamo dato a loro Kumar. Che noi ci prenderemo Singh. Scambia la pari. Lui è praticamente il giocatore secondo me perfetto da affiancare da Puglia. E il secondo giocatore sarebbe un altro svincolato. Singh. Che completerebbe dunque la lista degli svincolati. Con i due giocatori svincolati a disposizione. Perché lui? Perché è velocissimo. A 80 anni di velocità scatto. 69 di accelerazione. Però sarebbe un'ottima riserva. Che non si lamenterebbe nemmeno quando non gioca. Perché non giocherebbe praticamente mai. Vabbè io direi di andare inizialmente su Singh anche perché lo paghi di meno rispetto al suo valore. Perché vai scadenza. Andrei proprio su Singh diretto. Che è il giocatore che ci serve più di tutti. Ti prendi il buon Jackson. E poi va sull'altro. Eventualmente. Decidiamo poi chi. Però Singh come dicevo è perfetto perché è alto. E a te serve un giocatore alto. È difensivo perché è alto come worker. E ti serve un giocatore difensivo. Ha delle stats fisiche discrete. Ha delle stats tecniche ovviamente a rivedere. Ma quel 63 contrasto in piedi mi intriga. Ha intercetto come stile di gioco. E dunque andiamo su Singh dai. Senza perderci un'ulteriore di chiacchiere. Jackson Singh. Ah Morantem è vero. Morantem nello scambio. Me lo stavo dimenticando. Bravi ragazzi. Bravi ragazzi. Metti dentro Morantem va. Morantem lo mettiamo. E quindi si offrono. 2.80 più Morantem. Bene. Benissimo. Benissimo. Potremmo forse offrire quei 30.000. 50.000 e meno eh. Però alla fine. Quale è importante? Noi gli diamo importante. Cosa è decisoria? Non la mettiamo. Stipendio. Li prende 500. Sarà sicuramente cresciuto rispetto alla scorsa stagione. Dunque che fai? Noi gli dai 100 euro in più. Gli dai quei 100 euro in più che gli cambiano la vita. Gli cambiano la vita e dunque arriva Jackson Singh all'Odisa. Si prenderà il centrocampo in mano al posto di quella pippa di Ja'U. Si cede Ja'dab. E questa è una grandissima notizia. Posti in arrivo. Offerta di presso ancora di Chuduri. Che mi sa che ha rifiutato tutte e due le offerte precedenti. Sì ha rifiutato tutte e due le offerte precedenti. Vai al Punjab. E c'è l'eva offerta per Jerry. Si muove il mercato eh. 2,60. Ok. Accetta. 260.000 accetta. Bene. Applausi per Rantley. Applausi non per le prestazioni. O meglio sì per le prestazioni. Per essere il peggior terzino su FIFA. Applausi per lui. Perché veramente peggio di lui non si può fare. Ancora Jerry. Stavolta il Central Coast Mariners. 260 dai. Oh bravi bravi. Quindi due opzioni per Jerry. Bene Jerry. Vediamo chi ha scelto. Allora. Secondo me Northampton. È passato troppo poco tempo dall'offerta australiana. E infatti siamo a Northampton Town. Allora siamo praticamente vicini alla fine di luglio. Dobbiamo fare altri quattro acquisti. Quindi io direi di farne un altro adesso. Stavolta però puntiamo la difesa centrale. Andiamo su Ahmed che è veramente forte. Belgio tra l'altro 188 anche lui. Palestina quindi ottimo. Andiamo dunque su di lui. Il Maldini palestinese. Quanto potremmo offrire ragazzi? Non scendrei sotto che ne so i 650. 700 offriamo. Famo 700 allora. 700 per Ahmed. Ahmed stavolta. Ahmed. Arzovi. Eh scusate per francesismo. Allora. Si può. Si può. Si può. Si può. Si può. Calma. 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 Si ragiona. Si tratta. Io me ne vado. Mi alzo e me ne vado perché già so che andrà bene. Valutate voi la trattativa. Io ve l'avevo detto. E io ve l'avevo detto. Lo sapevo. Lo sapevo. Lo sapevo. Bisogna trattare. Bisogna venirsi incontro. Luciola di Yaser. Ottimo. Eh. Tre anni per lui. Dunque abbiamo fatto dei colpi che stanno aumentando veramente di tanto. Uh vabbè. È una persona immensa. Che ha voglia di venire all'Odisa. 500 euro. 500 euro. Non si è alzato manco lo stipendio. Il Maldini palestinese. Arriva in quel dell'Odisa. Dal North East United. Ci ha un rimprestito. A questo punto. Si va su Gingan. Uh si si abbassa ancora di più il valore perché è salito a 31 anni. Oddio si si abbassa ancora di più il valore. Ma poi guardate quanto è bello Gingan. Regà. Barbona. Cudino. Gingan capitano dell'India. È vero. Questo è forte forte. Vai su Gingan. Vai. 3.50. 3.80. Però si può ancora trattare. Io ti rioffro 3.50. Perché la tensione è proprio al minimo. Quindi si può ancora trattare tranquillamente. Loro ci diriderà. Ci diriderà. Vedete? Mai mollare. Never give up. Sbatterà la testa al muro un paio di volte. Ma dopo un po' il muro si rompe. Sandes Gingan. Potrebbe essere lui l'ultimo acquisto per quanto riguarda la difesa centrale. Di questo Disa. Affronta Mastino e Aereo. Cruciale ovviamente. Lui proprio centralone di difesa. Lo mette al centro. Di Ahmed e Ali. C'è una difesa regà che te fa sognare. Fanno 400 perché me fai tenere. Cioè 350 a me è troppo poco. Me faresti troppa tenerezza. 400. 4.50. Vai. Accetta. Accetta. Arriva. L'ultimo acquisto per quanto riguarda la difesa centrale. Ossia Gingan. Il capitano della nazionale indiana. E va completato un reparto migliorato per mille rispetto alla scorsa stagione. Allora siamo quasi a metà agosto. Siccome il campionale inizia a ottobre. Mercato si chiude a fine agosto ovviamente. Abbiamo tempo anche per pensare poi tranquillamente. Per i terzini sinistri. Appunto io chiuderei proprio il discorso di difesa. Acquisterei adesso il terzino sinistro e poi il centro a pista centrale che abbiamo già adocchiato. Ho Bose. Costa poco. È un giocatore prettamente fisico. Più che tecnico come possiamo vedere. E Michera. Che però dal Mumbai City arriverebbe. Andresti a togliere un buon giocatore ad una diretta rivale. Ad una diretta concorrente anzi. Anche rivale alla fine. Però in Mumbai è più forte di noi. Invece Bose sarebbe più in linea. Eh sì Bose è il più realistico tra i due sicuramente. Perché Michera dal Mumbai City non avrebbe senso. Andiamo su Bose dunque. Andiamo su Bose dai. Andiamo su Subasish Bose. Che tra l'altro nome è meraviglioso. Mi ricorda l'ex portiere croato del Monaco. Stats fisiche intriganti. Si può migliorare qualcosina. Buona aggressività. Dei mordere cavie degli avversari. Poi tecnicamente lascia desiderare. Però il 60 sia un contrasto di piedi scivolata. Va bene sperare per il campionato indiano. Rimessa lunga. Attenzione. Potrebbe essere il McKennie indiano. Andiamo ad acquistare Subasish Bose. 3,50. Quanto ci dice per gioco? Semplicissimo. 3,50. Olè. Buone è anche importante. Quindi è anche umile. Bene così. Due anni. Si vola. Ma tutti vogliono venire all'Odisa. È arrivato anche Bose. Si è abbassato lo stipendio. E vabbè. Quest'oggi ragazzi. Tutti. Tutti. Non lo so. Umilissimi. Tutti vogliono venire all'Odisa. Vedete vuol dire che si respira una buona aria nella nostra chat. Sono felici di essere supportati da voi. E a questo punto andiamo ad acquistare l'ultimo acquisto. Scusate il gioco di parole. Ma ultimo acquisto per noi. Che ha un nome e un cognome. G. Tenda sing. G. Tendra sing. Anzi. Che lo volevamo sin dall'inizio del mercato. Il buon G. Tendra sing. Vuole venire all'Odisa. È rimasto qui. Dall'inizio. Vuole per forza di cosa venire da noi. E dunque. Chi siamo noi per vietarglielo. Bellissimo G. Tendra. Quattro anni. Vai. Completi proprio in modo perfetto il centrocampo. Con il giocatore che ti manca per sazze. E con un giocatore che non si lamenta se non te gioca. E... 8,50. Oddio. 8,50. Testimendi non è un po' troppo. Se facessimo tipo 600 o più gli emetti un bonus d'ingaggio di tipo 1.002. Ammazza. Agite. Ti acquisteremo successivamente. G. Tendra mio. Oh. Attenzione Marinovic. Incrivi. Il Cardiff si è svegliato da nulla. Vuole Marinovic. Tratta. Si sono ricordati che Marinovic è sul mercato. 400. Bravi. Perché Marinovic deve ancora accettare. Quello non accetta. Lo dico io. Vabbè. Mo se so. Tutti. Tutti che vogliono. Si sono ricordati al penultimo giorno di mercato. Che Stefan Marinovic è per l'appunto sul mercato. Grandi. Grandiosi. Vi chiedo 10.000 e più. Ste infamate. Sinceramente con l'1% che te fa di. Eh ma poi ci avrei la rivendita. Eh no. 400k. Allora. Vai. Allora adesso G. Tendra. Siccome è il 30. Sono passati 30 giorni. Sì. 7 giorni e quindi si può prendere G. Tendra. Giusto? Vai G. Tè. 8.50. Gli damo. E tagliamo la testa al toro. Dai G. Tendra. No c'è un problema. C'è un problema G. Tendra. Sì sì. Si va sul Rebello. Eh G. Tendra. Mi dispiace. Torna a casa Princeton. Adesso vai. Princeton Rebello. Allora. Si ripunta Rebello. 2.50. E si va di Princeton. 2.70. 2.60. E se venimo incontro. Una via di mezzo. Senza tratta troppo. Che mi annoio poi. Bravi. Bravi. Avete visto? Appena gli ha detto. Io mi annoio. Allora subito. Ok. Allora. Alziamo le mani. Accettiamo i 2.60. 3 anni. Accetta. 5.50. Vedi? Quando si tratta di persona umile. Ti ha attaccato al progetto. Ricordiamolo. Lui non è che ci odiava l'anno scorso. Lui non è che aveva chiesto la cessione l'anno scorso. Eh. C'era stato un piccolo fraintendimento. Lui c'era venuto nell'ufficio. Ci aveva tirato addosso due tre bestemme. E noi abbiamo detto. Guardate. Purtroppo non ti posso garantire attualmente il ruolo in squadra. Lui se è presa. Ma ha tirato la tazza del te addosso. Se n'è andato. Però. Risolto tutto. Se ne va. Se ne va. Se ne va. Cardiff. O qual era l'altra? O Ipswich. Cardiff o Ipswich. È andato al Cardiff. Alla fine se ne va in Galles. La formazione all'area però è questa. Una formazione che secondo me è di tutto rispetto. Ed è pronta per vincere il campionato. Alla fine se ne va in Galles.